Madonna, alla soglia dei 60, lancia sul mercato la sua linea beauty Da regina della musica a e imprenditrice. Madonna, che in quanto ad eterna giovinezza sembra proprio intendersene, lancia la prima linea di prodotti per la cura della pelle a suo nome, frutto della collaborazione con il suo dermatologo di fiducia Chi meglio di Madonna coi suoi, quasi, 60 anni che sembrano venti di meno poteva pensare ad una linea di schincare La pop star, forte della sua esperienza e dei consigli del dottor Paul Rod Frank, ha presentato a inizio settimana a New York, da Bernays, Mdnaskin Una serie di prodotti è dal DNA italiano. Perché, a rendere quelle creme così efficaci, sono le acque termali di Monte Catini, di cui Madonna fa uso da diversi anni E, a vedere il suo viso liscio e il suo corpo perfetto, è evidente che quella cura abbia funzionato. A produrre Mdnaskin è stata una società giapponese, che ha messo in pratica i suggerimenti della cantante E così, ecco che ha visto la luce una maschera allargilla ricca di minerali creata da Madonna per il proprio viso, e riproposta ora alle sue clienti, i cui ingredienti, argilla e acque termali, provengono proprio da Monte Catini La promessa? Pelle più pura e segni dell'inquinamento attenuati E poi, un gel contorno occhi che assicura di combattere borse e occhiaie che lei consiglia applicato prima di uscire, come se fosse una crema per il viso, regala uno sguardo freschissimo A prova di paparazzo, anche se non sei Madonna e i fotografi dalla tua casa stanno lontani. 59 anni compiuti in agosto e festeggiati nel Salento, la pop star è sulle scene da ormai 35 anni Eppure, a vederla ballare sul palco fotografata coi suoi figli, sembrerebbe che la giovinezza non l'abbia mai abbandonata A svelare i suoi segreti di bellezza è, oggi, il dermatologo Poglia Rod Frank, che la segue da diversi anni e che l'ha aiutata a creare Gnaskin I segreti di Madonna. Ma quali sono i trucchi di Madonna per sembrare così giovane? Costanza, abitudine e la ricerca di prodotti che siano davvero efficaci, risponde il dottor Frank Non è l'applicazione occasionale che combatte i segni dell'invecchiamento, è la cura regolare della pelle, a farlo Se si vuole assomigliare a Madonna, è bene tenerne conto e seguire la sua routine giornaliera, applicare sempre un filtro solare, evitare l'esposizione diretta al sole, idratarsi, trovare i prodotti che sulla propria pelle risultano più efficaci Madonna è una persona molto disciplinata, non salta mai un giorno, nel prendersi cura di sé, e questo sulla sua pelle si vede dichiara il dermatologo Prima di arrivare a creare Gnaskin, Madonna ha a lungo utilizzato i prodotti della giapponese MTG, che hanno un principio molto simile a quello da lei impiegato per la sua linea di skincare Che, oltre che sull'efficacia, punta molto anche sulla praticità. Madonna ha infatti puntato su prodotti come la maschera per gli occhi che possono essere utilizzati mentre si fa dell'altro Il suo preferito, tra tutti gli spray, le creme e i sieri creati? Lo Skinsterose mista alle rose, con cui idrata e rinfresca la pelle prima di ogni uscita pubblica Il suo preferito, tra tutti i nostri spettatori, che hanno un po' di più Il suo preferito, tra tutti i nostri spettatori, che hanno un po' di più Il suo preferito, tra tutti i nostri spettatori, che hanno un po' di più